numero 5 set di due tagliabiscotti realizzato in plastica con stampa di topolino e mini facile rilascio dello stampo ideale per la cottura di biscotti originali e gustosi trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 formina tagliabiscotti a forma di smile il tagliabiscotti è realizzato in pla con tecnologia di stampa 3d si consiglia il lavaggio a mano acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 3 set di 4 formine per tagliare i biscotti realizzati in pla con tecnologia di stampo 3d le formine hanno una lunghezza di 9 centimetri e un centimetro di spessore ottimo articolo ideale per feste o per il divertimento dei bambini trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 2 set di 6 tagliabiscotti ispirati ai pokemon ideale per i bambini si consiglia il lavaggio a mano realizzati in pla resistente con tecnologia 3d ottimo articolo per biscotti divertenti e deliziosi puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 set di formine per biscotti a tema disney ideale per eventi compleanni e tutti i tipi di celebrazioni per dare un tocco originale alla festa realizzati in plastica si consiglia il lavaggio a mano se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione